Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. La Coppa del Mondo è uno dei tornei non solo più difficili ma anche tra i più belli dell'anno. Con questo formato ad eliminazione diretta a tempo lungo sono state infatti giocate tantissime partite spettacolari. E tra queste una partita pazzesca è stata quella tra Fabiano Caruana, numero 2 al mondo, ed il casaco Rinagio Mabaiev, che, pensate, un 31enne bloccato nell'ultimo anno e mezzo da questo discorso della pandemia che ha completamente bloccato i tornei a tempo lungo, che è quasi al suo massimo di elo, 2637 in crescita, che quest'anno, se continuerà a giocare buoni tornei, potrà portarlo tra i primi 100 del mondo. Quindi a proposito di giocatori che vediamo poco ma che sono comunque forti. La loro prima partita, col casaco di bianco, è finita in parità. Nella seconda, Caruana, lui con il bianco, ha la possibilità di fare suo il punto decisivo. Partiamo! Fabiano Caruana apre con C4, quindi si parte con l'inglese ma poi l'apertura traspone perché Jumabaev apre con E6, cavallo in C3, la spinta al centro in D5, D4, mossa migliore, con cavallo in F6 siamo nel gambetto di donna rifiutato. Come fa Karsen di solito, anche Caruana in questa partita cambia subito i pedoni al centro per fissare la struttura pedonale. Quindi C per D5, il pedone ricattura in D5, alfiere in G5, quindi sviluppa attacche di inchiodo del cavallo. C6, donna in C2, sviluppa la donna, controlla due case importantissime, quindi previene anche alfiere in F5. E quindi il nero sviluppa alfiere in E7. Guardate il bianco come sviluppa lentamente, ora tranquillamente farà partire lo sviluppo sul lato di re, quindi E3. Il nero continua con il lato di donna, cavallo in B che va in D7 perché non vuole arroccare, anche se il bianco in questa posizione naturalmente arroccherà corto, ma non c'è bisogno per il nero di arroccare prima del bianco. Quindi cavallo in B che va in D7, alfiere in D3, quindi si forma questa batteria che sta guardando questa casa H7, però fortunatamente per il nero non c'è nessuna idea di alfiere sul cavallo, almeno per adesso, perché ci sarebbe la ricattura sempre di cavallo e quindi il ricarico. In questa posizione Jumabaev prende una decisione importante per il proseguo della partita. Invece di giocare arrocco corto, sposta il cavallo in H5. Guardate, con il cavallo che controlla, in modo particolare questa casa F4, non c'è modo per Caruana di evitare il cambio degli alfieri camposcuro, quindi alfiere per alfiere in E7, la donna ricattura, adesso si sviluppa il cavallo. Caruana a modi Kasparov lo sviluppa in E2 e come mai non vuole bloccare i pedoni qui sul lato di re, perché qui saranno quelli che dovranno avanzare, perché vedete che ce n'ha due sul lato di donna e il bianco. Il nero non può arroccare, perché sennò naturalmente si perde il pedone. Prima non si poteva naturalmente catturarlo, sennò giocando G6 gli rimaneva inchiodato dall'alfiere, quindi per giocare, scusate, gli rimaneva bloccato dall'alfiere, quindi per giocare arrocco corto il nero è costretto a giocare G6. Quindi chiude questa diagonale, arrocco corto per Caruana, arrocco corto anche per Jumabaev. Ora, aprendo il database, vedo che il bianco in questa posizione adotta generalmente due piani che sono ottenuti completamente diversi. Sono torre in A che va in B1 per poi giocare B4 e A4, il classico attacco di minoranza per sciupare la maggioranza pedonale del nero sul lato di donna. Il secondo piano è quello che giocherà Caruana in partita. Sempre la torre in A, però si sposta in E1 per giocare sul centro e l'attacco sul lato di re. Il cavallo in D si porta in F6, cavallo in C1, classica manovra per lasciare la colonna E alla torre. Oltretutto guardate, sulla colonna E c'è proprio la donna del nero. Con alfiere in E6, il nero completa lo sviluppo, arriva F3. F3 supporterà la spinta dei due pedoni che sono G4 e E4, arriva B6, perché ora il nero vuole il controgioco con questa spinta che attacca il centro. Quindi sul lato di donna verso il centro con la spinta C5. Donna in F2, quindi anche la donna si porta sul lato di re, arriva la spinta C5, ora attenzione a non farsi sciupare questa struttura pedonale. Nell'unica partita che ho in database, il bianco aveva giocato prima G4, che arriva con tempo, e poi il cavallo in E2 a proteggere ulteriormente questa casa G4, e invece Caruana gioca donna in H4. Quindi donna sempre più aggressiva, è protetto anche dalla donna il pedone. Ora il nero come deve continuare? Il cambio, secondo me, se il nero cambia è la donna che probabilmente ricattura, portando la donna a dominare questa diagonale scura, proprio la debolezza di colore che è sulle case scure intorno al re nero, quindi non conviene, oltretutto gli si inchioda, e scusate, oggi ce l'ho con questa inchiodatura, gli si isola il pedone D, quindi C4, B5, sembra una delle idee migliori, ma guardate che questa donna di Caruana in A4, guarda anche a raggi X la donna del nero sospesa, questa cosa non piace a Jumabaive, che torna indietro con la donna in D8. Certo che è una mossa buona, di sicuro non è una mossa che prende in mano l'iniziativa, quindi l'iniziativa la prende in mano Caruana, arriva a G4, G4 è forte, il cavallo sotto attacco si porta in G7, e il cavallo si porta in E2. Torre in B8, perché il nero vuole questa spinta in B5, arriva a A4. Doppio controllo sulla casa B5, ma arriva C4. Anzi, triplo controllo, c'è anche il cavallo, l'alfiere sotto attacco si porta in C2, A6 vuole supportare questa spinta in B5. Il cavallo salta in F4, guarda anche questo alfiere, arriva B5. Ora attenzione, non si può permettere assolutamente al nero di aprire questa colonna, quindi A per B5, il pedone A ricattura, sta arrivando B4. B4 è brutta, è pericolosa, e quindi Caruana gioca probabilmente la mossa migliore. B4, qui vuole bloccare tutto, naturalmente il nero non si vuole far bloccare, Jumabaev cattura Anpassan, C per B3, l'alfiere ricattura. Arriva però B4 con tempo. Questo è un momento molto importante della partita, perché il cavallo va spostato, vedete, qui il pedone centrale è protetto tre volte, quindi il cavallo non lo può catturare. Dove si mette questo cavallo? Le due idee principali sono A4 oppure A2, Caruana lo porta verso il centro e anche verso il lato di Re, gioca, cavallo in C che va in C2. Purtroppo per lui la casa che manteneva il vantaggio era questa casa A4. Come mai? È vero che il cavallo sta sul bordo, ma in una mossa ritorna verso il centro, non solo ritorna verso il centro, si piazza su questo avvamposto fortissimo che è supportato dal pedone in D5. Quindi, cavallo in A4, cavallo in C5, idea migliore, e quindi si perde un po' di vantaggio. Bellissima adesso la manovra del nero, alfiere in B8, scusate, alfiere in C8, bella idea quella di riposizionare l'alfiere su questa diagonale, quindi, Caruana gioca cavallo in G3, quindi schiolando il cavallo arriva alfiere in A6. Mossa 26, questo momento critico della partita, 35 minuti per pensare a cosa fare di questa torre, sull'orologio di Caruana, che è in forte vantaggio di tempo, perché Jumabaev ha solo 15 minuti per arrivare alla quarantesima mossa. Ora, la decisione naturalmente è se spostare questa torre in F2, oppure se non perdere tempo, perché poi questa torre in F2 può dar fast... non solo non guadagna il tempo dell'alternativa, che è questa spinta in G5, che però naturalmente perde la qualità, ma guardate un po' che succede. Dopo torre in F2, c'è anche l'idea di giocare alfiere in C4. Alfiere in C4 è un alfiere che attacca questo alfiere campo chiaro, un alfiere che non può essere cambiato, altrimenti si formano, si formerebbe questa coppia di pedoni passati entrambi, connessi, avanzati, che sicuramente vincano la partita. Quindi noi siamo arrivati al nostro quizzone, quindi mettete pure in pausa se volete, e qui c'è da scegliere se rimanere un po' in posizione difensiva con torre in F2, oppure se il sacrificio di qualità che però permette questa spinta in G5 può portare ad un attacco vincente. Ritorniamo subito alla nostra partita. Sapete quanto tempo ci ha pensato per giocare questa mossa Caruana? Soltanto tre minuti. Forse voleva giocare sul vantaggio di tempo, forse sono tutti un po' arrugginiti nelle partite a tempo lungo, che sì, le hanno rigiocate, ma non costantemente. Si perde un po' di smalto. Fatto sta che Caruana prende la decisione sbagliata. giocherà G5. Ma ritorniamo indietro, perché questa G5 qui naturalmente perde la qualità e quindi o porta ad un attacco vincente o qui il finale si fa grigio. Ritorniamo indietro, torre in F2 era la mossa migliore. Certo, adesso arriva l'alfiere in C4. Abbiamo detto non si possono cambiare gli alfieri oppure questa coppia di pedoni passati connessi e che stanno avanzando vinceranno sicuramente la partita. Quindi il bianco si deve mettere un po' sulla difensiva, torre in B2, il nero ha sicuramente equalizzato la partita. Ritorniamo a noi, perché invece Caruana lascia questa torre in presa, gioca G5, alfiere per torre in F1, la torre ricattura. Cavallo sotto attacco si porta in E8, il cavallo del bianco vince un pedone in D5. Torre in B5, quindi due volte il cavallo sotto attacco e quattro mossa migliore che oltretutto mette in moto questa coppia di pedoni e invece arriva donna in E4. Vedete che donna in E4 perde il controllo del pedone, donna cattura in G5 inchiodando anche il cavallo, però si apre anche, è vero, una linea di attacco contro il re nero, arriva a F4 con tempo sulla donna. Donna indietro in D8, arriva anche F5. F5 vuole sicuramente aprire l'arrocco, vedete l'attacco di Caruana è forte, il nero deve anche stare attento alla possibile inchiodatura, perché quando il cavallo si sposta il pedone in F7 rimane inchiodato in maniera assoluta sul re. Jumabaiev si ritrova con soli 5 minuti per giocare delle mosse che diventano sempre più importanti. Come deve continuare il nero? Cavallo in D6, non giocato dal casaco è forte, perché difende ed attacca, quindi la donna si dovrà spostare indietro e il nero ha bloccato, almeno per adesso, questo attacco. Ritorniamo indietro, si può anche catturare. G per F5, anche questa è buona, il cavallo ricattura, fa paura questa colonna G aperta, ma guardate che succede. Cavallo per cavallo, la donna ricattura, il re nero si sposta per primo, re in H8 e stranamente sarà il nero che arriva prima sulla colonna G a portare delle minacce. Quindi anche il bianco si deve spostare, re in H1, basta il cavallo in G7 che chiude, che, oltretutto, migliora la posizione del cavallo attaccando la donna, quando questa donna del bianco si sposta, se possibile, il nero metterà in gioco anche la sua donna e non dovrebbe più avere grossi problemi. Ritorniamo a noi, e invece Jumabaev giocherà a cavallo in F6, che è un errore, che non perde però la partita immediatamente, ma sicuramente rimette in gioco Caruana. Attacca ugualmente la donna, ma arriva cavallo per cavallo con scacco, la donna è l'unico pezzo che può ricatturare, come voleva Caruana arriva questa cattura sull'arrocco, F per G6, e oltretutto, guardate, pedone inchiodato, donna sotto attacco, la donna è costretta a catturare per spostarsi dall'attacco della torre, le due donne si guardano, e ma qui arriva il colpo tattico di Caruana. Alfiere cattura in F7 con scacco, attacca anche la donna, e questa mossa vince la donna. Ora, il problema per il nero è riprendere il più materiale possibile, e come si fa? non di certo con torre cattura in F7, perché torre cattura in F7 perde la partita, non si può dare, e infatti vedete, non giocata dal casaco, non si può giocare lo scacco in E8 perché c'è il cavallo, ma lo scacco vincente è donna in E8 con scacco. Se questa torre torna indietro, naturalmente piglia matto, quindi bisogna interporre il cavallo, il cavallo è sicuramente perso, ma sarà persa anche la torre, perché il re si sposta torre per torre, toglie rumore dalla posizione, la donna ricattura, e il bianco, catturando la torre in B5, si ritrova con un pezzo di vantaggio, eppure un pedone, e potrete tutto controllando benissimo il pedone avanzato. Ritornando a noi, e quindi qui Jumabai è costretto a catturare di donna, quindi posizione si complica terribilmente, donna per donna, Caruana gli ha vinto la donna, torre per donna, la torre ricattura, fermiamoci un attimo, come materiale, anche se squilibrato, siamo pari, perché donna per due torri, il cavallo e il cavallo, un pedone di vantaggio, ora, cosa bisogna fare? Entrambi, ora qui si sta giocando un finale molto complicato, entrambi ci hanno i pedoni passati, in qualche maniera forse è più scoperto il re del nero, ma la prima cosa che mi viene da pensare è guardare chi vince la corsa dei pedoni, quindi, mossa al bianco, se il bianco gioca d5, non giocato da Caruana, arriva a b3, vedete che il nero arriva prima, non solo arriva prima, arriva pure con scacco, quindi è Caruana quello che deve stare un po' sulla difensiva, quindi arriva donna in d3, che attaccando la torre impedisce naturalmente al pedone di avanzare, e quindi torre in g5, torre in g5, in maniera offensiva, inchioda il cavallo del bianco, qui probabilmente d5 adesso è giocabile, ci sono tante mosse che sono giocabili, Caruana non vuole rimanere con il cavallo inchiodato, gioca re in g2, il re si vuole, perché su questa colonna f non si può spostare, si vuole spostare in h3, cavallo in f5, e4 arriva con tempo, cavallo da scacco in h4, e il re, come Caruana voleva, si sposta in h3, ora il cavallo è schiodato, il cavallo del nero è sotto attacco, torna indietro in g6, ora stiamo attentissimi perché vedete il cavallo al prossimo salto si muove in f4, scacco e forchetta che vince la donna e vince la partita, quindi questo mossa 40, quindi sono già arrivati entrambi i giocatori all'incremento di tempo, quindi non c'è più per nessuno dei due il problema di non aver tempo per pensare, qui bisogna spostare la donna, Caruana gioca donna in c4, attacca il pedone passato, inchioda questa torta, sembra una mossa fortissima, non si accorge però che c'è un pattern di matto, Jumabaev trova la mossa vincente, lui va a giocare direttamente per il matto, spinge in h5, guardiamo un po' che succede, scusate, ritorniamo indietro, adesso il cavallo in f4 con scacco non vince più la partita perché il re si sposta, attacca la torre, torre in g6, vuole dargli questo scacco da h6, ma il cavallo si porta in maniera offensiva in f5, questa partita dovrebbe essere patta, ritorniamo a noi e invece guardate che succede, c'è un pattern di matto h5, adesso, giusto per farvi vedere, non si può catturare il pedone, guardate che succede, dopo donna cattura in b4, mi sono scordato la freccia, non giocata da Caruana che lo vede ora il matto, arriverebbe cavallo in f4 con scacco, il cavallo gli toglie questa via d'uscita, re in h4 mossa unica, torre in g4, tutto si protegge a vicenda, diventa scacco matto, quindi, detto questo, dopo h5, se il re non esce dal bordo, Caruana prende matto, quindi, è costretto a tornare indietro, re in g2 salva il re, ma naturalmente perde il cavallo, perché pezzo inchiodato, in maniera assoluta, verrà attaccato da un pedone, arriva h4, il re si riporta in h3 perché non c'è più il matto, perché avanzando il pedone non gli si può più dare matto, però casca il cavallo, pedone h, cattura il cavallo in g3, pedone h, ricattura, re in g7, Caruana gli toglie il pedone isolato, ma il finale sta diventando sempre più complicato, torre in f3, qui si minaccia la terribile cattura in g2, quindi, donna in b7 con scacco, ma guardate il re dove si rifugia, re in h6, re, questa h6, grazie alla presenza del cavallo che gli fa anche da scudo sulla sesta traversa è più che sicuro, perché guardate il cavallo come gli chiude, come gli controlla due importantissime case che il bianco potrebbe usare per dargli scacco da dietro, arriva quindi donna in b8 a proteggere il pedone, ora, attenzione che il nero non può mica cambiare due torri per donna e pedone, perché sennò rimane col cavallo e sappiamo che re cavallo contro il re non può vincere e quindi bisogna giocare torre in e3, torre in e3 attacca il pedone da dietro, questa è una mossa forte che il pedone in qualche maniera sicuramente lo catturerà perché il pedone non può avanzare, guardate un po' che succede se il pedone avanza, se il pedone si porta in e5 non giocata da Caruana, vedete, si disconnette la difesa della donna sulla casa g3, arriva un matto forzato anche molto carino perché la torre che era sulla terza traversa, scusate, cattura in g3 con scacco, il re viene spinto nell'angolo, torre in g2 con scacco, re in h1, torre in g1 con scacco, re in h2, arriva la seconda torre, ora il re viene portato avanti, lo scacco di torre lo costringe a fare un altro passetto, adesso finalmente la torre si può spostare torre in h1, scacco matto, allora ritorniamo a noi, unica possibilità è quella di avanzare l'altro pedone, quindi Caruana gioca d5, casca il pedone in e4, arriva d6, torre dietro il pedone passato, questo è il metodo classico per difendersi, donna in c7, non giocata da Caruana, non serve a niente, sembrerebbe buona perché lo aiuta ad avanzare ma il nero poi gli rimette dietro anche la seconda torre e quindi il pedone casca per forza e quindi cosa fa Caruana? Gioca donna in b2, torre sotto attacco ma tanto la torre cattura il pedone, donna in c3, quindi Caruana tenta di creare un'ultima disperata fortezza, torre in d5 perché qui l'unico modo per perdere la partita è farsi, è cadere vittima di qualche tatticismo, quindi qui i pezzi sono tutti protetti, donna in e3, inchioda la torre, l'altra torre si sposta in a5, il re torna indietro in g2, torre in a, ritorna in e5, attacca la donna, donna in d4, torre in d5, donna di nuovo in e3, protegge l'entrata della torre sulla seconda traversa, inchioda l'altra torre, ma qui arriva il solito colpo tattico, donna in d3, deviazione straordinaria perché qui la donna non può catturare perché guardate il pedone inchiodato arriva a cavallo in f4 con scacco e forchetta che vince la donna e quindi la donna si deve spostare di nuovo, di nuovo non si può cambiare tutto perché se no si patta per forza però arriva a cavallo in f4 con scacco ora il problema è dove piazzare il re se il re si porta in h2 non giocato da caruana qui veramente si può catturare perché guardate un po' che succede donna cattura ma qui non si fa il cambio si gioca torre in h5 con scacco quando il re si sposta re in g1 cavallo in e2 scacco e forchetta e praticamente si vince la donna per il cavallo e poi re e torre daranno lo scacco matto allora dopo questo scacco di cavallo in f4 caruana gioca re in f2 il problema di questa mossa è che non ci sono più due protezioni sul pedone quindi torre in g cattura in g3 donna in e4 attacca il cavallo ma arriva torre in g2 con scacco e caruana alla mossa 58 non giocherà la mossa 59 perché in questa posizione abbandona ora che succede se il re si sposta in f1 arriverà torre in d1 quindi bianco è costretto a perdere la donna e se il re si sposta in e1 arriva semplicemente torre in e2 con scacco il nero guadagna la donna per torre e cavallo di nuovo rimane con re e torre che vinceranno semplicemente la partita quindi un torneo fantastico questa coppa del mondo erano già cadute alcune teste importanti nei turni precedenti ma l'uscita di scena certo del numero 2 del mondo è la notizia di giornata oltretutto ci sono una quantità enorme di belle partite io mi sto un po' mettendo da parte speriamo di avere il tempo di mostrarvele e quindi io spero che in questo torneo vi stiate divertendo molto spero anche che la partita di oggi vi sia piaciuta se vi è piaciuta non scordate di like al video non scordate di iscrivervi al canale e noi naturalmente ci vediamo domani con un altro video a presto grazie a tutti grazie a tutti